La futura viabilità di Verona Sud al centro delle proposte presentate oggi al Comune d'Autostrada 4 nell'ambito del progetto di realizzazione del nuovo casello autostradale. Il sindaco Federico Sboarini e l'assessore alla viabilità e traffico Luca Zanotto hanno illustrato in anteprima le opere definite invariabili, cioè fondamentali, che porteranno a realizzare i collegamenti al nuovo casello. Saranno connesse con l'A4 le tangenziali cittadine, la variante alla Statale 12 con lo svincolo dell'Alpo, lo snodo alla Marangona, la rimodulazione con il tracciato sud del Filobus e il collegamento dai per il parcheggio scambiatore e il deposito mezzi pubblici alla Genovesa. Al vagliora del Comune le proposte di A4 Holding per il ribaltamento del casello di Verona Sud, sul quale si dovrà decidere se totale, cioè completamente spostato nella zona vicino alla Genovese, o solo parzialmente, separando dal casello, il traffico in uscita da Milano, deviandolo vicino alla motorizzazione. Grazie a A4 perché è stata una delle prime cose che avevamo chiesto, quello di andare veloci sul progetto di ribaltamento. Ci sono state portate queste opzioni sul ribaltamento del casello oggi, però possiamo già dire, a di là della scelta che poi faremo nei prossimi giorni, condividendolo con i nostri uffici, con la maggioranza dell'amministrazione, ma la cosa fondamentale è che ci sono già state presentate le cosiddette opere invarianti, cioè tutte quelle opere viarie che tengono conto dell'attuale, ma anche di quello che ci sarà in quella zona della città, quindi il parcheggio scambiatore, il capolino del filobus, la caserma dei vigili del fuoco, sono tutte quelle cose che sorgeranno, la variante è stata alle 12, ma per tradurre ed essere pratici queste opere permetteranno di sollevare quell'ingorgo quotidiano che si crea nell'accesso alla tangenziale in via Forte Tomba, quindi la via verso Cadi David, avendo degli accessi ulteriori e diversi direttamente in tangenziale.